Sono 48 i posti disponibili per chi vorrà effettuare il servizio civile universale nelle strutture dell'associazione Casa Rosetta. Gli aspiranti volontari da 18 e 28 anni dovranno presentare la domanda sempre attraverso la piattaforma nazionale entro il 10 febbraio. Una volta iniziato il servizio civile verranno impegnati per un massimo di 35 ore settimanali per 12 mesi, ricevendo come prevede il bando governativo un'indennità mensile. L'associazione si riferisce al servizio civile come ad una grande occasione di crescita e formazione per i giovani, volenterosi di dedicare un anno della loro vita a favore di un impegno sociale e solidaristico, si legge, indirizzato al bene di tutti e di ciascuno. E quest'anno ha presentato tre progetti affini alle aree di intervento in cui l'associazione opera da più di 30 anni nella visione del miglioramento continuo che caratterizza la missione al servizio dei più deboli, attraverso il valore aggiunto del volontariato sociale. Il progetto superabile 2020, si legge ancora, mira al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità fisiche e disturbi psichiatrici ospiti delle strutture, al fine di incrementare e potenziare gli interventi legati alla mobilità, migliorare i processi di promozione e sviluppo delle capacità relazionali e favorire l'inclusione sociale e lavorativa. Il progetto Indipendenza 2020 propone come focus principale la presa in carico, l'assistenza ed il contrasto delle dipendenze patologiche e infine si legge, il progetto Lavorando in Paro, Regione Lazio, riguarda i minori e l'equip all'interno delle comunità alloggio per minori nella gestione di reali processi di prevenzione, cura e riabilitazione dei minori.